Ciao, amare con distacco dal risultato. Cosa significa? Intanto è l'unica forma d'amore che possiamo avere, perché se siamo attaccati al risultato, se siamo bisognosi, se vogliamo che le cose, diciamo, vadano esattamente come noi abbiamo previsto nella nostra mente e se c'è qualche, diciamo, divergenza o differenza iniziamo a soffrire, ovviamente siamo predestinate alla sofferenza. Quindi amore con attaccamento al risultato significa sofferenza. L'unico modo è quello di imparare a distaccarsi dal risultato, non è una cosa facile. Essere distaccati dal risultato non vuol dire non amare, ma vuol dire, potremmo dire, amare veramente, perché amo, come dire, una persona e accetto da un certo punto di vista le sue scelte, poi posso influenzarle, non attraverso l'ossessione, diciamo, o l'ossessione all'autogratificazione, cioè, ma attraverso l'interazione. Quindi nel momento in cui sono distaccato dall'obiettivo, io posso rendermi conto che interagendo con una persona posso modificare i suoi comportamenti. In realtà ogni volta che noi interagiamo cambiamo le cose, siamo tutti interdipendenti, quindi essere consapevoli dell'interdipendenza, da un lato ci fa capire che non è detto che le cose vadano esattamente come noi vogliamo, ci fa capire che le cose cambiano, si trasformano, che sono vuote, diciamo, di un'esistenza solida, intrinseca potremmo dire, ma che attraverso il potere dell'interazione, il potere della comunicazione in questo caso, noi possiamo modificare, anche cambiando noi stessi, i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, le nostre parole, possiamo modificare gli altri, perché siamo i propri interdipendenti. Quindi l'obiettivo è quello di creare un'interdipendenza positiva, creare una situazione in cui noi riusciamo a interagire in modo positivo con le persone. Però dobbiamo renderci conto di queste in profondità, perché se ce ne rendiamo conto in profondità e non soltanto da un punto di vista concettuale, da un punto di vista razionale, logico e razionale, allora possiamo veramente acquisire la capacità di staccarci dai risultati, di non soffrire più per come sono le cose, perché noi spesso non soffriamo per come le persone sono, ad esempio, ma perché le persone non sono esattamente come noi vorremmo che fossero. E siccome non saranno mai come noi vorremmo che fossero, sai, sarà una sofferenza continua. Dobbiamo tenere conto del potere dell'interazione, il potere dell'interagire. Questa è l'unica arma, tra virgolette, che abbiamo a disposizione per la comunicazione. E possiamo metterli in atto in modo positivo se non diventiamo bisognosi. Ma il renderci conto di questo potere automaticamente non ci rende bisognosi, automaticamente ci rende liberi, perché siamo anche interdipendenti con questo. Quindi meditare su queste situazioni, cioè familiarizzarci, avere una corretta visione della realtà, su ciò che è la realtà, è ciò che ci permette realmente di distaccarci dal risultato. Per questo video è tutto. Ti ricordo due cose che... La prima è che venerdì 24 febbraio ti ero a Torino un corso su come coinvolgere attraverso le emozioni. Alle 20.45, venerdì 24 febbraio. Se sei interessato o interessato, il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare all'estrazione di corsi gratuiti con me, che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!